Buonasera e benvenuti a CECAP da parte di Sandro Galantini. Il nostro consueto tour tra gli specialisti per conoscere di più e meglio tutto quello che riguarda naturalmente la nostra salute e nella puntata di oggi abbiamo un ospite veramente molto molto gratuito e la dottoressa Simona Ruggeri dietista specialista in alimentazione e nutrizione umana. Buonasera. Ciao Sandro, buonasera. Buonasera Simona. Simona essendo una dietista, una grande esperta mi tornerà particolarmente utile perché io ho messo su un po' di pancetta, credo di non essere il solo naturalmente, e avendo un metabolismo un po' lento insomma faccio un po' fatica. Però vedremo, affronteremo anche questa questione. Intanto partiamo subito con la prima domanda Simona. Mi piacerebbe sapere da te qual è il ruolo dei macronutrienti. Sì, allora innanzitutto è importante sapere quali sono i macronutrienti. Diciamo che possiamo distinguerne tre e sono delle categorie, come dice anche la parola stessa, grandi. A queste categorie appartengono i carboidrati, le proteine e i grassi. Allora, per quanto riguarda i carboidrati, essi hanno un ruolo prettamente energetico, cosa vuol dire? Che ci danno la benzina, ok, per poter funzionare, quindi un ruolo energetico importantissimo. Le proteine invece rivestono una funzione plastica, cosa vuol dire? Che servono all'organismo per costruire, per riparare o ricostruire tessuti. Ovviamente il nostro fabbisogno in proteine dipende anche dalla fascia di età a cui apparteniamo. Basti pensare ad un adolescente o comunque ad una donna in gravidanza, diciamo che sono entrambe categorie con un apporto, con una necessità proteica molto più elevata. E poi ci sono i grassi, che invece tutti demonizzano e che hanno un ruolo di riserva energetica. Perché riserva? Perché ovviamente l'organismo li utilizza in casi estremi. Quindi quando non abbiamo un'energia in forma immediata, qualcosa da rapido utilizzo, prendiamo appunto una categoria differente che è il grasso. Tipo quelli che una volta andavano in montagna a tagliare la legna, temperature molto basse, avevano bisogno... Assolutamente sì, ad esempio per un'attività che a livello energetico è molto impegnativa, abbiamo bisogno comunque di un carboidrato che ci dia appunto un'energia da utilizzare in forma immediata. Ma terminata quella, il nostro corpo va a tingere energia dai grassi di deposito. Ascoltami, io che sto un po' sovrappeso, devo demonizzare i carboidrati oppure... Allora, ci sono delle linee di pensiero molto differenti. Una dieta che ad esempio è attualmente molto in voga, demonizza la categoria dei carboidrati. Questa dieta si chiama dieta chetogenica, però ovviamente può avere dei pro e dei contro. Onestamente io non demonizzerei questa categoria, anche perché la categoria dei carboidrati, diciamo che comprende una serie di alimenti che poi ci aiutano anche per altre funzioni, come ad esempio la regolarità intestinale. Basti pensare alla componente fibra, quindi tutta quella categoria di sostanze come verdura, frutta, cereali integrali, contengono dei carboidrati complessi, come ad esempio anche la fibra, che ci permette appunto di essere regolari. Tipo la pasta integrale. Assolutamente sì, o anche ad esempio i cereali. Allora, a questo proposito ti vorrei chiedere proprio, anzi ti vorrei chiedere, vorrei da te una differenza tra i tipi di carboidrati e, ahimè, la risposta glicemica. Certo, allora i carboidrati possiamo distinguerli in base alla loro formula chimica. Generalmente li distinguiamo in due categorie, carboidrato semplice e carboidrato complesso. Il carboidrato semplice è un carboidrato che ha, o meglio provoca, una risposta glicemica abbastanza rapida. Cosa vuol dire? Se io ad esempio mangio un dolce, il livello di zucchero del sangue, quindi il mio valore glicemico tenderà a salire molto velocemente. Se io invece tendo a mangiare un alimento che contiene un carboidrato complesso, quindi ad esempio un cereale integrale, ad esempio un pane integrale, pane di segale, dell'avena, la mia risposta glicemica sarà molto più lieve. Cosa vuol dire? Che non avrò un picco, ma avrò una curva molto molto più dolce. Questo tipo di curva, quindi di risposta glicemica, mi permetterà di non avere nemmeno problemi a livello insulinico, quindi è una cosa molto molto importante. Sì, anche perché, insomma, questo è un problema che hanno in molti, molti di più di quelli che noi pensiamo, ecco. Sì. E a proposito di questo, come inserire allora a questo punto, diciamo, un alimento zuccherino all'interno dell'alimentazione? Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare il ruolo del carboidrato, quindi abbiamo detto che ci dà energia. L'ideale sarebbe utilizzare, quindi, un carboidrato che sia anche un carboidrato contenente zucchero semplice, in un contesto della giornata dove io ho sicuramente una spesa energetica importante. Ad esempio, potrei consumarlo nella colazione, insieme ad altri alimenti che modulino però la mia risposta glicemica. Facciamo un esempio. Eh, facciamolo. Voglio mangiare una fetta di ciambellone. Benissimo. Io so che quello potrebbe essere un alimento che ovviamente mi può provocare una risposta glicemica importante, ma posso nel contesto della colazione aggiungere ad esempio uno yogurt intero o anche uno yogurt greco che contenga quindi una parte proteica, una parte grassa, che vanno in qualche modo a modulare la mia risposta glicemica. Posso aggiungere anche una frutta perché ricca di fibre potrebbe ancor di più migliorare la mia risposta glicemica. Senti, Simona, io vado pure un po' di qua e di là perché naturalmente ho una certa necessità anche personale. Poi naturalmente verrò a trovarti al poliambulatorio d'archivio a Giulianova dove ricevi. Ma, diciamo, a me, io sono intenditore di linea, mi piace. Intenditore forse è una parola un po' troppo impegnativa. Se io mi limito a bere un bicchiere o due, diciamo, il fine settimana, sballa molto, diciamo così, il mio equilibrio alimentare? Allora, no. Una cosa importante è tener conto della gradazione alcolica. Quindi, in base a quella, io avrò ovviamente una risposta del mio organismo differente. Sicuramente il vino, rispetto ad esempio ai superalcolici, ai liquori, ha un effetto meno deleterio perché soprattutto i liquori o comunque gli amari hanno un carico di zucchero molto, molto, molto più grande. Quindi un pochino più difficile, tra virgolette, da gestire. Bene un bicchiere di vino nel contesto di un pasto completo invece non ci provoca danno perché, insomma, un bicchiere... E la birra di cui è goloso invece Pietro che sta in regia? Allora, la differenza con la birra sta ad esempio nella natura gassata della birra. A livello di gradazione alcolica non abbiamo problemi perché anzi dovrebbe essere più bassa, però essendo un alimento gassato posso avere un attimino una reazione differente, ad esempio a livello di gonfiore addominale. Quindi quello bisogna valutarlo. Senti, mi piacerebbe concludere questa passeggiata molto piacevole con te con una questione generale. Abbiamo affrontato i problemi dei carboidrati, dei grassi, degli alcolici, ma insomma che dobbiamo fare? Noi che siamo arrivati, parlo di me naturalmente, a una certa età e quindi il cibo rappresenta un po' una gratificazione, diciamo così. Quindi va bene stare attenti, ma cosa possiamo fare contro il piacere del cibo che ci aggredisce, che ci chiama, che ci provoca? Allora, cosa possiamo fare dottoressa? Innanzitutto una cosa importantissima è godersi la tavola, quindi sedersi già con l'idea oddio ho paura di mangiare, oddio conto le calorie, oddio questo mi può far male, è un errore grandissimo. Quindi sicuramente l'approccio più importante e anche quello più funzionale poi è essere sereni. Concedersi un alimento che magari ci aggrada particolarmente, che può essere ricco di zucchero, che può essere un bicchiere di vino, che può essere un gelato o un qualsiasi cosa, ecco se lo si fa con un approccio anche mentale un pochino più rilassato, tra virgolette crea meno danno. È una cosa assolutamente importante perché tante volte si mangia non per fame, ma per voglia, per coccola. Quindi già se noi impariamo a distinguere questa cosa, sicuramente abbiamo un attimino un tassellino in più. Ultimissimo post script, ma io non la farei mai andare via perché ho tante tante domande, credo che anche chi ci veda ne avrebbe tante da porti. Comunque l'ultimissimissimissima. La frutta. Si. Si dice che a fine pasto rallenti la digestione, vero, falso, ni. Anche qui ci sono milioni di correnti di pensiero, diciamo così. Tendenzialmente la frutta è un alimento caratterizzato dalla presenza di zuccheri semplici, che quindi tendono un attimino ad alzare di più la glicemia. Tendono anche a fermentare a livello intestinale. Cosa vuol dire? A creare gas, ok? Ci sono dei momenti dove magari il soggetto può sentirsi un attimino più affaticato nella digestione della frutta, proprio per la formazione di gas. E di solito accade molto di più in percentuale dopo un pasto, quindi dopo un pranzo o dopo una cena. È ovvio che poi a livello nutrizionale calorico non cambia assolutamente nulla. No. Quindi. Ma io che dire ringrazio, ti ringrazio tantissimo Simona, sei stata veramente brava, molto simpatica, diretta, concisa, sintetica, qualità che veramente bisogna apprezzare tantissimo e che non diciamo non vanno disgiuntamente dalle grandi capacità professionali in tuo possesso. Quindi ringrazio Simona che è dietista specialista in alimentazione e nutrizione umana presso il poliambulatorio d'archivo di Giulianova. Grazie Simona. Grazie Sandro, grazie. E grazie a voi che ci avete seguiti. Naturalmente prossimo incontro per sapere qualcosina di più sulla nostra salute con CheckUp. Buonasera.